buongiorno ragazzi come state inizi questo nuovo blog per voi adesso a mezzogiorno e 5 e io inizio a preparare il mio pranzetto perché comunque un pranzo molto veloce a base di verdure e carne allora ho iniziato il blog appunto per darvi una chicca su come mantenere la verdura bella in frigorifero la verdura in questione è prima di tutto è il cavolo nero allora l'ho comprato in settimana e l'altro giorno l'ho messo nel cassetto normale del frigo e dopo visto c'era già le foglie tutte mosce allora cosa ho fatto ho pensato che di mettere dentro dell'acqua ho preso questa questo contenitore riempito messo metà l'acqua e gli ho messi dentro tagliato un pochino la punta e l'ho messo dentro ovviamente non so com'è il vostro frigo il mio è questo qua non è grande non è piccolo però dentro lì non ci sta allora cosa ho fatto messo qui nella qua l'ho messo qua quindi ragazzi scusate non voglio farvi vedere cosa ho nel frigo solamente per darvi un consiglio che ahimè è molto utile allora adesso mi vado a preparare questo pranzetto di cui farò insieme il broccolo rapino questo è molto buono è un po diverso dell'altro e zucca o qui la zucca già tagliata e pulita vado a far saltare il tutto in padella e poi vi faccio vedere poi mi farò una una bistecca di carne rossa dopo vi faccio vedere il tutto guardate che meraviglia queste foglie di di cavolo nero erano mosce 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 sono belle croccante adesso vado a far lussarle tutte mi sa che le faccio tutte perché una volta non le faccio tutte perché voglio fare domani come si chiama un succo detox quindi avanzo queste e queste qua vado a mettere in frigo come vedrete la punta è bella perché l'ho tagliata l'altro giorno e l'ho messa nell'acqua l'ho messa Grazie a tutti. 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 Il pranzo è pronto. Allora qui c'è la verdura come vi ho fatto vedere, un po' di riso e la carne. Io sto cercando di avere un'alimentazione sana ed equilibrata. Non sono bravissima, non è che ci capisco molto, però so che dove c'è la verdura ci sono le vitamine. Ecco, giusto per una battuta. Voi mangerete, voi bevete acqua, vino, birra, succo, di solito che cosa preferite a pranzo. Io preferisco l'acqua, non che ogni tanto quando c'è una pizza mangio, bevo la Coca-Cola. Però 99% bevo acqua, vediamo questa verdurina che tra le altre cose si è un po' abbrustolita troppo, si è bruciacchiata diciamo così, perché quella pentola lì non è una pentola molto buona da fare questo tipo di verdure. Poi ho alzato un po' troppo il fuoco perché è già tardi, è già l'una e dieci e sono andata anche di là a parlare il telefono, quindi poi mi sono dimenticata. E niente, proviamo com'è. Molto croccante. A me non piace la verdura molto mole mole, stracotta, anche se questa si è cotta bene. Vediamo la carne. Non l'ho messo il sale, adesso vado a prendere. Come avete visto io condisco tutto con il sale rosa, quindi... Allora, nella carne non l'ho messo il sale. Avete visto che io uso il sale rosa o quello da tavola, solo che adesso ho preso questo qua, che è più prato, verrà già lì. E niente, poco sale e voilà. Allora ragazze, ho appena finito di mangiare, appena, è già passato qualche mezz'oretta, diciamo così, e mi è venuta una binocco, non so perché, ma ho sonno. Allora sono andata di là a tirare, ritirare il chiodo qua, e sono andata di là in camera a sistemare un po' di là, e ho pensato di farmi un caffè perché ho guardato il letto e quasi quasi mi ci stavo buttando sul letto. Abbiamo acquistato una nuova macchina da caffè, questa volta abbiamo scelto la Nespresso, non l'abbiamo ancora usata, la userò adesso per la prima volta insieme a voi. Volevo fare un unboxing ma non ce l'ho fatta perché Mirko l'ha aperta subito, e quindi niente unbox, ma vi faccio vedere un po' qualcosina. La macchina è questo colore, è bianca, questa volta ho voluto scegliere qualcosa di chiaro, perché ho tutto nero e volevo qualcosa di chiaro. È un design molto bello, la macchina è bellissima, questa è una tassa mia che l'ho messa adesso perché sto per appunto farmi un caffè. dentro c'era le scialde, non l'ho mai provata, ho aperto ma non so come siano i gusti, perché comunque non l'ho mai provato. Allora, qui c'è scritto i vari gusti e anche la quantità del caffè che si può fare con una scialda. Le scialde sono veramente belle, sono stupende. Vabbè, mi sa che faccio un bianco leggero, sì, faccio il bianco leggero. Proviamo il bianco leggero, ragazze. Come avete visto, ho messo nella tassa grande, ho sbagliato perché volevo fare una tassa. un altro tipo di caffè, volevo fare il caffè freddo con il latte, il ghiaccio e il caffè, ecco perché c'era la tassa grande, poi dopo ho cambiato idea. E niente, qui è il caffè, l'ho già assaggiato senza zucchero perché ultimamente non sto prendendo lo zucchero e nulla. Allora, mi è venuta una voglia di dolce pazzesca, quindi sono già alle 4 e mezza, sono andata già a prendere Veronica all'asilo. Conosco una ricettina molto easy, semplice da fare, molto gustosa. Ovviamente è un po' calorica perché ci sarà dentro i datteri, quindi è un po' calorica. Bisogna fare attenzione perché uno tira l'altro. e ci sarà il cioccolato fondente, pasta, burro d'arachidi e penso che è solo questo. Adesso vado a farli questi dolcetti, diciamo così, e poi vi faccio vedere. Molto semplice da fare, tutto nel mixer, 5 minuti neanche e tutto fatto. Molto semplice Molto semplice da fare, tutto nel mixer, 5 minuti neanche e tutto fatto. Allora, eccoli qua. Buonissimi da mangiare, ragazzi. Eccoli qua, ragazzi. Belli e buoni. Adesso io li mangio uno perché sono, ovviamente, morendo dalla voglia di mangiare un dolce. E allora, sono venuti sei e ho fatto dentro tre datteri. Ma vabbè, ho fatto un po' a occhio perché più o meno uno già come si fa e quindi l'ho fatto a occhio. È una recettina molto semplice da fare, molto buona, vi prometto che è buona. Allora, ovviamente non dovete mangiare il vino tutti perché, ragazzi, c'è una botta di calomiglia incredibile. Io mangio uno al giorno, ma sono due. Quindi ho fatto sei. Mi dovrà bastare per tre giorni di bagarre. Quattro, cinque giorni dipende un po' come li mangio. E niente, è giusto per togliere quello sfizio del dolce. Diciamo, più sanno che non sanno. Non è che dovete strafogarvi di questa cosa perché, se no, poi non diventa più salutare. Ma vi potrà fare male più che bene. E niente, ragazzi, assaggio insieme a voi. Prendo questo più piccolino. Il secondo morso è quello che vi dà veramente la voglia di mangiare tutta la ciotola. È buonissimo. Se non ti piace il cocco, non metterlo perché... Io vi consiglio di fare perché è veramente buono. È un dolce, diciamo, più sano di tante altre cose che si mangia. È buono. Però dovete stare attento perché uno tira l'altro. E quindi bisogna moderare, altrimenti... Anziché mangiare cose sane. Anziché essere una cosa sana, poi diventa non sana perché c'è tanta caloria per il fatto dei datiri. E niente, ragazzi, io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Se non siete ancora iscritti, lasciate un vostro like e un commento. Ciao!